Caro figlio, oggi porto un messaggio di speranza e rinascita attraverso Gesù, il tuo Salvatore. Non importa cosa sia successo nel tuo passato o quali sfide stai affrontando adesso, sappi che non è mai troppo tardi per un nuovo inizio. Devi solo scegliere di camminare nella fede, confidando nelle promesse che Dio ha per te. Dio, nel suo amore infinito, ha fatto promesse speciali che sono a tua disposizione. Egli desidera che tu viva una vita di vittoria sul peccato e goda di tutto ciò che Egli ha preparato per te. Oggi, Egli aprirà le porte delle sue benedizioni sulla tua vita, offrendoti un futuro incredibile e pieno di possibilità. Ricorda che un cuore grato è il punto di partenza per la grandezza umana. Abbandona l'idea di meritare qualcosa di specifico e riconosci che tutto ciò che ricevi è un dono grazioso da parte di Dio. Ringrazialo per tutte le cose buone nella tua vita, anche quando le circostanze si mostrano difficili. Sappi che, direttamente o indirettamente, Dio è sempre al tuo fianco, aiutandoti ad ogni passo del cammino. Se credi in queste parole di incoraggiamento, scrivi Amen nei commenti, aprendo spazio per ricevere le benedizioni di Dio già oggi, mio caro figlio. Non preoccuparti eccessivamente, poiché nulla è impossibile per me. Anche se non puoi vederlo, credi che tutto si risolverà alla fine. Coltiva la fede nel tuo cuore, poiché il Signore non solo ti darà opportunità di essere benedetto, ma anche di essere una benedizione nella vita degli altri. Afferra queste opportunità con determinazione e amore. Non versare più lacrime, amato figlio di Dio. È arrivato il momento di una nuova stagione nella tua vita. Conosco le sfide che stai affrontando e desidero alleviare il peso che porti oggi. Sappi che queste difficoltà contribuiranno a renderti una persona più forte e resiliente. Tutto ciò che accade ha una ragione, mirando al tuo bene. Accogli queste parole di conforto e vai avanti, fiducioso che un giorno guarderai indietro e ringrazierai Dio per ogni fase del tuo percorso. Scrivi Amen nei commenti, aprendo spazio per le benedizioni divine nella tua vita già oggi. Che tu sia benedetto con amore, pace e gioia lungo il tuo cammino. Grazie a tutti.